Ed è vittoria! Dai Emilia, fatti un tuffo! L'acqua è caldissima! Esattamente com'era qua. No! Gli alberi mi sembravano molto più grandi. Certo che con questi capelli vorrai malissimo sulla foto del matrimonio. Senti, ma io e te perché non usciamo fuori a cena? Con Romina? Cena a dire la pacificazione? No, con Michele. E porti anche Emilia. Emilia? Ciao papà! Un po' che non ti fai vedere eh? Vabbè dai, ti ho telefonato. Te? Ogni tanto. Non vendi. Che cazzo vuol dire non vendi? Non vendi. Non vendi. Perché cazzo mi hai fatto vendire qui? Che cazzo vuol dire non vendi? Vabbè! Che cazzo vuol dire non vendi? Chiudi porta e finestre! Non vendi le mie le tue!